Penso che tre gradini siano abbastanza, però... Racket, non lasciare i tuoi braccialetti in giro, se no... Mi domando se io... No! Non è stato così... D'accordo, d'accordo, niente panico, Enrietta, devi soltanto annullare l'incantesimo. Tesoro? Sì, sono qui fuori, Lorne, ma sto bene, non ho bisogno di aiuto perché sto bene. Hai visto Racket per caso? Penso che lui e Jay siano sul retro...